God Save the Wine, rock on stasera con Andrea Sommaruga di Panzanello, da Panzano che è probabilmente il territorio del Chiantilassio più rock che c'è, con questa energia, questo frutto che ci deve spiegare come mai il suo vino è rock e quali i suoi vini si presta meglio alla scipa molto particolare di stasera. Allora, perché il mio vino è rock? Il mio vino è rock perché sfruttando la parola rock traducendola in italiano è roccia, quindi vuol dire che il mio vino nasce sulla roccia su un territorio molto interessante da un punto di vista di esplosione e poi io mi diverto in alcuni momenti dell'anno di affinare il mio vino con gli SDC, con YouTube. Ah, e c'è chi lo fulla con Mozart, con la Musialassa, a te invece? Io lo bastono, io lo bastono. Questo mi piace, ecco perché mi piace il tuo vino. E questo è il motivo perché è rock. Poi ho pensato oggi ad andarla a binare con una buona riserva 2012 che è una cosa, un vino che è un Sangiovese, un Cabernet che si può abbinare con quasi tutti i piatti che escono dalla cucina, dalla cucina della rock caffè. Sono vini, è un vino che ha una potenza retro gusto, abbastanza dolciastra, quindi con tutte le salse, barbecue si abbina molto bene. Spazza via tranquillamente. Sì, quindi abbiamo questa potenza che va anche oltre a tutti i pesati. Beh, andiamo subito a provarlo, mi ha messo fame. Grazie a me. A voi.